amici di tatticas buonasera e ben trovati con un'altra puntata un'altra puntata abbiamo un ospite molto gradito con noi stasera un amico nella pagina tattica se noi abbiamo già avuto modo e il piacere di fare una diretta insieme antonio filippini quindi buonasera mister buonasera al nostro sabo stasera siamo noi tre siamo noi tre salvo vuoi salutare il pubblico buonasera a tutti amici tatticas è un saluto speciale ad antonio che ho avuto il piacere di avere nell'esperienza a livorno e ci insegnerà un sacco di cose stasera così come è stato prezioso in quei mesi buonasera a tutti grazie mille jacob diciamo che ci ha formato per l'esperienza a livorno dai è stata fortemente formativa diciamo così una bella esperienza no sabo dicevo di solito chiedo all'ospite di presentarsi in realtà il nostro antonio non ha gran bisogno di presentarsi però se vuoi dire qualche parola tu visto che comunque c'hai anche lavorato insieme in apertura e poi ci notriamo anche nel nostro attuomento guarda le prime parole che posso dire su un antonio sono quelle che mi ha detto una persona che conosce anche lui ed è un'amicizia comune che è riusciuta sui campi di calcio che è max canzi a certo stesse che mi ha detto è un ragazzo straordinario e vi darà una grande mano e penso che max abbia inquadrato alla perfezione la situazione questo è quanto poi sul curriculum calcistico di antonio ragazzi si è espresso fenomeno ronaldo quindi io se parla ronaldo io devo solo annuire dire cosa dobbiamo dire noi alla fine allora mi sa io ti chiedo visto che la carriera da calciatore la conoscono un pochettino tutti dici poi e poi tanto parleremo anche di quella dici un pochettino quel tuo percorso una volta terminato di giocare a quello che ho smesso a 38 anni di giocare tempo un mese ero già passato dall'altra parte del del campo nel senso che ho cominciato a fare l'allenatore nel nei giovanissimi del brescia e poi l'anno dopo sono passato alla berretti della feralpi salò per poi al quarto anno ho fatto un'esperienza anche all'estero con l'accademia del milan a sydney per imparare non il calcio perché diciamo rispetto a quello italiano quello europeo sono un po indietro ma per imparare la lingua inglese che che è importante anche sotto l'aspetto comunicativo per gli stranieri che potrebbero venire in italia a giocare poi da dalla dall'esperienza in australia sono passato agli adulti e ho fatto lumezzane trento e per fare l'anno scorso l'esperienza a livorno prima come secondo libreda poi ho fatto il collaboratore di tramezzani e ho fatto insieme a jacopo davamo una mano al mister e poi è ritornato breda poi hanno di nuovo rimandato via breda e le ultime dieci giornate le ho fatte io con per finire il campionato c'era anche la situazione della pandemia c'era la situazione anche contrattuale infatti a un certo punto eravamo in trenta giocatori a un certo punto al trenta di giugno spinelli ha mandato via dieci dodici giocatori siamo rimasti con contati e con dei giocatori della primavera però comunque sia stata un'ottima esperienza sotto tutti i punti di vista io mister ti faccio una domanda subito che la faccio e di solito vengono fuori sempre spunti interessanti quando ti sei accorto di voler fare l'allenatore tu hai detto hai finito di giocare boom panchina cioè mentre giocavi già te la sentivi questa cosa diciamo che fino all'ultimo giorno ho pensato di giocare a calcio perché dal momento che un giocatore pensa a fare qualcos'altro tipo l'allenatore tipo il dirigente o tipo aprirsi un'azienda per vendita di casa e non riesce più a mantenere alta la propria concentrazione sul gioco per cui io fino all'ultimo momento pensate di fare il giocatore non ho mai pensato al dopo pensavo giorno dopo giorno per tenere alta la mia motivazione detto questo nelle mie caratteristiche da giocatore avevo la qualità della tattica perché è vero sì che correvo tanto ma è vero sì che non correvo a vuoto e correvo tanto perché riuscivo a in campo a leggere le situazioni la lettura del gioco era fondamentale a risparmiare metri sul campo perché usavo bene gli spazi per cui ero già allenatore in campo e e con questa situazione quando sono passato poi dopo un mese ad allenare mi è tornato semplice allenare detto questo ho dovuto partendo dai giovanissimi dal settore giovanile ho dovuto proprio ritornare indietro perché fare l'allenatore bisogna curare molto i dettagli per farvi un esempio era vent'anni che io facevo il passaggio di interno piede forte e quando ho iniziato ad allenare pretendevo che lo facessero anche i giovanissimi ma quell'età lì l'aspetto coordinativo l'aspetto tecnico non è come quello degli adulti e quello dei professionisti per cui ho dovuto insegnare come posizionare la gamba d'appoggio come far scivolare la gamba calciante insomma tutte queste situazioni dovevo ricordarmene e poi insieme la parte più didattica diciamo nel caso che un po in prima squadra da già per scontato che però qua giustamente a livello giovanile poi sono tutti aspetti sono tutti aspetti molto molto importanti quindi diciamo che hai dovuto un pochettino tornare indietro perché comunque nel momento in cui finisci di giocare e hai una squadra di ragazzi comunque più giovani devi cambiare il tuo metodo di lavoro però poi penso che sia anche un giusto come si dice processo di crescita no partire dai giovani per poi via via arrivare a una prima squadra no se ti fai perfettamente capire perché secondo il mio punto di vista ma l'ho detto anche coverciano un giocatore che ha fatto top presenza nei professionisti non dovrebbe fare tre patentini dovrebbe fare solo uno però con promossi e bocciati nel senso che se io non studio d'allenatore e faccio l'esame non devo passare perché mi chiamo antonio filippini e ci deve essere proprio promossi e bocciati una volta che sei promosso almeno due anni obbligatori in un settore giovanile professionistico ovviamente per far sì che tu puoi insegnare tanto ai ragazzi ma non solo per la tua esperienza da giocatore ma anche perché hai studiato e i ragazzi ti possono dare tanto perché perché non è semplice entrare in uno spogliatoio e parlare a dei ragazzi allenare liberando stai liberando delle panchine di serie a importanti così è per dire questo secondo me il percorso giusto per la crescita anche del giovane stesso perché è importante insegnare bene loro e perché hai studiato e perché hai esperienza non perché hai solo esperienza secondo il mio punto di vista poi in altre tematiche che vorrei sapere mi sembra di vedere abbiamo un ospite non lo vedo ancora non lo vedo un ospite che noi ci piacciono le sorprese l'ho letto l'ho letto ma mi sa che lui è la tecnologia ha letto ma non ha letto quindi dovremmo rinviare antonio dopo fai finta di non aver letto niente così la rifaccia ci verrà comunque meglio va bene va bene no mista io ti infatti ti per come la penso poi magari tornerà il nostro ospite ma secondo me non c'è nessuna categoria a cui puoi insegnare di più e crescere tu come allenatore se non il settore giovanile perché tu veramente devi andare a riprendere tutti quei principi ma infatti io credo che quello che dicevi tu sabato dici stiamo liberando un po di panchine vero ma io credo che sul tuo discorso ci siano tanti magari anche allenatori che non hanno giocato ad alti livelli che magari sono d'accordo no perché magari gavette di venti trent'anni poi arriva l'ex calciatore giustamente che comunque un percorso importante e dopo una tot dopo un mese dopo un anno dopo due anni è già su una panchina importante credo che sia un percorso sia giusto tutte e due le cose io ti dico sono d'accordo con questa idea che hai tu ma sì diciamo che fa parte della meritocrazia e poi non è detto che se uno ha giocato a determinati livelli può essere anche un ottimo allenatore ci sono delle controversie veramente chi c'è chi c'è anche su zoom all'invono per la pandemia era sempre così rimarra come ci mandare un messaggio non ha la linea non ha la linea wireless fatta bene però non ha una connessione forte a proposito di connessioni ma sento che non riesce a collegarsi infatti ce ne siamo accorti però apprezziamo la sorpresa comunque ci abbiamo provato a farti fare un saluto da dai sì infatti dai come se l'avesse fatto come se l'avesse fatto magari prima o poi ci ritenterà adesso a sorpresa ci sarà uno spot con il suo ingresso vediamo se magari prima o poi riuscirà comunque mister detto questo poi tu hai la tua esperienza a Livorno ma tutto questo poi affiancato da un altro tuo percorso se ce ne vuoi parlare sì da ho fatto un percorso parallelo che quello della motivazione della psicologia del mental coach ho iniziato a 27 anni quando giocavo e ho sentito il bisogno di avere degli stimoli nuovi perché era da parecchi anni che giocavo nel brescia allora ho iniziato questo percorso e direi che l'avessi saputo prima l'avrei iniziato tanti anni prima anche all'inizio della mia carriera perché veramente con questo percorso un giocatore può migliorare le sue prestazioni del 30 40 50 per cento lo dico non perché lo sono diventato io ma perché l'ho provato sulla mia pelle provando sulla mia pelle questa sensazione ho avuto anche il desiderio di imparare questo nuovo nuovo lavoro e l'ho iniziato praticamente vent'anni fa ho imparato parecchie tecniche di comunicazione di motivazione di aggregazione insomma ci sono tanti modi per per farsi di migliorarsi come come persona che o migliorare le persone che hanno bisogno di aiuto per cui un esempio io sono molto affascinato a questa cosa soprattutto durante la tua esperienza da da calciatore quindi la ricerca della motivazione intrinseca diciamo no quello che ti spinge più hai qualche esempio non so pratico in che modo ti ha aiutato questo tuo percorso mentre giocavi ma quando giocavo praticamente quello che mi ha aiutato tanto erano le visualizzazioni che molte volte solo anche il gesto tecnico non riusciva lo facevamo e basta ma invece facendo dei esercizi mentali sulla visualizzazione proprio del colpo delle o trattare la palla come calciarla mi ha migliorato sotto sotto questo aspetto per cui le visualizzazioni sono sono molto importanti e quando poi andavo a farle sul campo avevo la sensazione di essere più veloce degli altri perché ce le avevo già nella testa e questo mi dava quella sicurezza che prima non sentivo non percepivo magari in alcune partite sì ma in altre no quando ho iniziato questo percorso avevo questa sicurezza maggiore sicurezza maggiore che mi come ho detto prima mi faceva andare più veloce degli altri per farvi un esempio c'è stato un giocatore di golf che era stato arrestato per per qualche motivo che non ricordo è stato in galera due o tre anni e lui in galera nella sua testa si giocava le partite in tutti i campi del mondo perché era un campione del mondo di golf e praticamente si immaginava come colpire la palla come era il terreno di gioco di un campo piuttosto che un altro il vento sentiva i profumi e visualizzava queste cose tutte nella sua mente perché era in galera non poteva farle quando è uscito dalla galera ha provato a giocare a golf non aveva smesso e come se non avesse mai smesso di giocare questo è un esempio per far sì che la mente può fare delle cose incredibili che nemmeno ci immaginiamo ma oggi che uso si fa del mental coach comunque tanti è una storia vera è sì 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 no no io non l'avevo mai sentito sinceramente però comunque molto interessante volevo dire mister oggi che utilizzo ne fanno i giocatori del del mental coach ci sente spesso che ma perché rispetto ad una volta ci sono molte più distrazioni e allora la concentrazione viene meno e allora il mental coach riesce a farti rimanere concentrato ai tuoi obiettivi che devono sempre essere positivi e riescono a farlo anche giornalmente ed il giocatore riesce a mantenere questa qualità di vita e anche da giocatore molto alti perché purtroppo come ho detto prima le distrazioni sono sono tantissime più sei professionista più diventano tante le distrazioni anto ma pensi che sia un corso che deve fare un allenatore una figura che deve metterti a disposizione la società come giocatore o una scelta individuale dell'atleta dunque secondo me è un allenatore deve studiare la parte psicologica perché come studia la parte tecnica la parte tattica e la parte fisica tramite ovviamente il preparatore dovrebbe studiare in percentuale uguale alle tre che ho menzionato la parte psicologica perché è fondamentale anzi diciamo spesso conta più la testa di che ho nominato prima la società lo può mettere a disposizione però non deve essere un obbligo deve essere a scelta del giocatore perché come se io ho bisogno ho un mal di testa e devo andare a prendere l'aspirina vado in farmacia non vado dal macellaio o viceversa se ho bisogno di carne non vado in farmacia e vale lo stesso concetto se un giocatore ha bisogno di motivazione sente il bisogno di andare da un motivatore da uno psicologo per migliorare le sue qualità e per aumentare le sue sicurezze per cui è per quello che non deve essere obbligatorio che la società non lo metta obbligatorio è solo una scelta è un negozio in più che la società mette a disposizione per i propri giocatori una risorsa per l'allenatore mi sento che hai visto la domanda sotto ci chiede Jack che noi salutiamo tra l'altro tutti quelli che ci stanno seguendo al mental coach viene chiesta l'analisi della partita ci chiede Jack dieci ma sotto l'aspetto tecnico no perché non voglio chiederti se vai ad analizzare i comportamenti infatti volevo arrivare lì sotto l'aspetto tecnico no ma sotto l'aspetto degli atteggiamenti sì perché solitamente un mental coach va a guardare l'atteggiamento per dire conosce bene un giocatore durante la partita sbaglia un passaggio si demotiva e gli fa vedere come mai qui la tua reazione è stata negativa piuttosto che positiva il video inchioda a non solo il gesto tecnico o la tattica sbagliata la diagonale fatta male ma anche il comportamento quando uno perde palo perché ti sei fermato qual è stata la tua sensazione l'atteggiamento del corpo no? l'atteggiamento del corpo il quando prendi colo oppure lo fai perché vai a curare proprio l'atteggiamento mentale di ogni singolo giocatore che poi va a comporre l'atteggiamento di squadra infatti è un po' come ci dice sotto GLLO00 alle facci rivedere la domanda lui ci parla di corpo, alimentazione e mente che servono poi tutti insieme dal punto di vista prestativo del giocatore e sono da integrare l'aspetto tecnico che quindi sia fondamentale degli elementi penso proprio di sì che sono tre elementi basilari per far sì che un giocatore possa rendere al 100% oppure gestire le situazioni difficoltà con l'atteggiamento positivo e non passivo questa è la differenza perché quando tu sei in fase massima della tua espressione calcistica che ti vengono bene tutte le cose lì non c'è bisogno nemmeno del motivatore è quando questa situazione mentale si abbassa è lì che subentra la motivazione di motivarsi in modo positivo molte volte quando succede un evento negativo molti si alimentano con della motivazione negativa che non serve ad adattazione c'è una reazione per forza positiva sicuramente l'aspetto individuale nonché quello anche di squadra conta Savo volevi dire qualcosa? sì poi abbiamo visto anche sul campo Antonio soprattutto a Livorno e le esperienze insieme quanto alcuni ragazzi magari che arrivano dall'estero abbiano problemi di lingua in una fase iniziale e poi di trovarsi a vivere con una cultura diversa quindi una figura del genere sicuramente ti aiuta quantomeno a far ordine in un trasferimento che magari avviene oggi con domani da una nazione all'altra un continente? sì perché noi pensiamo che gioca calcio in Sud America viene in Italia si ambienta gli diamo del tempo e si ambienta da solo invece bisognerebbe aiutarlo a crescere il più velocemente possibile ma facendo questo gli diminuisci l'ansia perché quando uno arriva, quando entra in un ambiente nuovo, in uno spogliatoio nuovo non conosce nessuno su quale cosa entra in ansia per cui bisogna tramite la comunicazione, tramite la vicinanza, il sociale cercare di fargli abbassare più l'ansia e più l'ansia si abbassa più riesce ad emergere il giocatore che è stato preso per quei motivi insomma se è bravo alla fine esce però devo accelerare questo percorso ma questo mister conta anche da giocatore a giocatore cioè l'impatto ambientale che può avere un giocatore che viene dall'estero poi viene subito dal giocatore stesso in base anche a una sua caratteristica la sua personalità credo mister ci senti? ogni persona, noi tre abbiamo delle identità diverse come quelli che ci seguono nessun essere umano è identico all'altro sotto l'aspetto dell'identità per cui un allenatore deve capire questo sistema e deve cercare il prima possibile di capire chi ha di fronte e in base a quello che capisce cercare di motivarlo per far sì che il suo modo di giocare esca il più velocemente possibile ogni persona è diversa, ha un'identità completamente diversa possiamo essere simili ma non siamo uguali, identici nemmeno io e mio fratello siamo sempre insieme però sei così eh sì, diciamo che non ti sei d'accorti ma sono Emanuele in questo momento ti ho fregato vai ma potete anche non dirlo se avremmo fatto tutta la diretta mister, mister, ti sei inoltrati nell'argomento io direi che possiamo andare con tu hai portato delle slide un po' a sostegno di quello che è il tuo concetto di calcio sistemico se ci vuoi dire come nasce questa tua idea e poi pian piano ci vai a spiegare quello che è il tuo lavoro certo, dunque il calcio sistemico il calcio diciamo lo conosciamo tutti la parola calcio devi essere bravo a insegnare tecnica, tattica la preparazione fisica e l'aspetto motivazionale sistemico è una parola che ho preso negli anni 80 da i computer una volta i computer avevano lavoravano singolarmente non si connettevano l'uno con l'altro lavoravano singolarmente tu per connettersi ad un altro computer dovevi prenderti il tuo hard disk portarlo all'altro computer e lì cominciavano a lavorare insieme invece negli anni a seguire hanno inventato le connessioni questo è connessione sistemica dove un computer da casa e uno dall'altra potevano connettersi e potevano creare un'energia importante come stiamo facendo noi in questo momento una volta non potevi farlo invece con queste connessioni sistemiche possiamo fare una lezione come stasera tramite i nostri computer i nostri ipad o tutte queste situazioni per cui il calcio sistemico è una parola che ho inventato io per questo motivo che ci devono essere delle connessioni tra io e i giocatori e tra i giocatori stessi per cui questa è la parola che è per quello che ho inventato questo nome e l'ho provato anche con la pandemia a Livorno praticamente dovevamo fare degli allenamenti anche tramite computer e abbiamo la pandemia per questo c'è la prima slide che vi faccio leggere non ve la leggo perché è giusto che la leggiate voi perché è più veloce è brutto sentire dire leggere uno mentre lo stai leggendo Marco vuoi farci la voce guida? voglio farvi la voce guida va bene faccio la voce impostata avevo una squadra fantastica di uomini prima che di calciatori veri campioni come Buffon, Barzagli De Rossi, Pirlo c'era una bellissima atmosfera nel gruppo e su quell'atmosfera che abbiamo costruito una squadra vincente Marcello Lippi dopo la vittoria del Mondiale 2006 poi abbiamo Guardiola abbiamo fatto una gara straordinaria e siamo riusciti a vincere con lo spirito di squadra Carlo Ancelotti vittoria a Champions League 2007 la verità è che quella fu la vittoria di un gruppo di uomini uomini veri gente che si aiuta in campo e fuori che lotta per un obiettivo comune non eravamo favoriti forse non eravamo nemmeno i più forti però abbiamo alzato la coppa e questo significa che eravamo una squadra vittoria 2007 poi abbiamo il 2019 Champions League Jurgen Klopp la vita è fatta di rapporti non solo con i giocatori ma con le persone in generale e se incontri molto spesso delle persone perché non migliorare il rapporto con loro con i giocatori è lo stesso per me una parte del gioco fa parte dell'essere una squadra e infine Giuseppe Mourinho 2010 Sabo non piangere ricordo tutto ricordo tutti i dettagli quando dopo dieci anni tutti ricordano tutto è perché è stata una cosa troppo profonda ed emozionante andata più lontano di quello che è il calcio quindi sono tutte frasi dopo vittorie direi discretamente importanti eh sì infatti se notate sono vittorie molto importanti e dopo le vittorie di che cosa è che parlano parlano per caso di tecnica tattica o siano stati più no parlano di di squadra di gruppo vincente di rapporti di rapporti perché eh alla fine eh lo diciamo sempre tanti allenatori lo dicono tanti allenatori il gruppo ha fatto eh e ci ricordiamo dopo tanti anni il gruppo della squadra cosa ci ha dato che emozioni ci ha regalato quel gruppo non parliamo mai era bravo quel giocatore tecnicamente o ha fatto bene no parliamo solo esclusivamente del fattore squadra che è quello emozionante quello eh eh ci arriva proprio la parte più emotiva del del gioco del calcio e e questi grandi allenatori l'hanno detto anche dopo delle grandi delle grandi vittorie detto questo gli allenatori vincenti non sono quelli che alzano solo i trofei per dire la squadra che si salva non è non alza nessun trofeo però ha raggiunto il proprio obiettivo e se andate a rivedere delle delle interviste che hanno fatto parleranno sempre esclusivamente del fattore squadra del fattore gruppo perché dico questo puoi andare avanti con le slide beh tu hai avuto un gigante da questo punto di vista Anto eh eh mazzone insomma no eh mazzone diciamo che era un allenatore che riusciva a gestire bene il gruppo ovviamente eh gestiva la situazione con con l'esperienza con l'esperienza e ci arriviamo adesso perché dopo vi faccio capire il perché di questa cosa che ho detto qui nella slide vediamo tre eh tre immagini una sono io in alto eh a sinistra una è mio fratello e in coppia io e mio fratello in una squadra già facevamo una squadra io e lui perché ci conoscevamo eh sotto l'aspetto caratteriale emotivo io sapevo tutto di lui e lui sapeva tutto di me perché abbiamo sempre eh vissuti insieme e abbiamo eh sapevamo pregi e difetti e quando ci incontravano gli avversari noi insieme creevamo un'energia superiore perché creevamo già squadra io e lui e quando giochevamo pure sulla stessa fascia non si non lottavano solo contro Antonio Filippini o contro Emanuele Filippini ma contro anche quest'energia superiore che noi creevamo e questa eh questa analisi l'ho fatta quando come hai detto tu prima Jacopo Ronaldo Ronaldo ha fatto questa dichiarazione dove dice eh Ronaldo ricorda bene come ha dichiarato i gemelli Filippini erano il mio incubo ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter erano dappertutto correvano tantissimo sempre andavano duemila all'ora e sembravano cinque fratelli ricordo bene le sfide contro di loro qua non non è una non l'ho messa per essere narcisista ma per far capire proprio il concetto che se un giocatore come Ronaldo il brasiliano con tutti i giocatori campioni che ha giocato insieme e contro si è ricordato di me mio fratello ma perché si è ricordato perché probabilmente ha sentito quell'energia superiore che noi due insieme creavamo ok puoi andare avanti se Ronaldo facesse un complimento su di me io me lo tatuerei infatti volevo chiederti questa è l'analisi razionale ma appena l'ha detto e tu l'hai scoperto qual è stata la reazione quella un po' meno razionale più distinto cioè che effetto ti ha fatto all'inizio è stata la ciliegina sulla torta per quanto riguarda la mia carriera carcistica e di partite ne ho giocate di soddisfazioni ne ho avute ma questa è stata la ciliegina sulla torta perché qualcosa nel calcio allora abbiamo fatto ho fatto perché se un giocatore Ronaldo brasiliano si ricorda di me mio fratello qualcosa nel calcio abbiamo fatto ma perché molto probabilmente quando l'Inter veniva a giocare a Brescia contro me mio fratello è vero il Brescia di Baggio ma io sono sicuro che negli spogliatoi quando vincevano col Brescia dicevano abbiamo vinto contro i miei fratelli filippini quei rompi è per quello che dico è stata una grande ciliegina sulla torta perché ha avvalorato quello che noi abbiamo sempre fatto in campo insieme quell'energia superiore l'abbiamo costruita insieme perché ci conoscevamo infatti il calcio sistemico è il calcio sistemico è la psicologia che aiuta un giocatore a conoscere se stesso ed a connettersi con uno o più giocatori generando un'energia al di sopra del gruppo stesso dando origine alla squadra nel senso che io e mio fratello ci connettavamo e creavamo quell'energia superiore che gli avversari facevano fatica pensate se un allenatore riesce a farlo con tutto il gruppo squadra e si va a creare questa formula qua uno più uno uguale tre come le proprietà dell'acqua le proprietà dell'acqua sono qualcosa di diverso dalla semplice somma di proprietà di due molecole ok dimmi no io volevo chiederti è sicuramente pensando alla storia di tuo fratello io penso che poi in quel tipo di situazione sia facile creare questo tipo di situazione perché comunque come dicevi tu vi conoscevate veramente a memoria quanto può essere difficile per un allenatore creare questa alchimia in una stagione tra due giocatori che magari vengono da due realtà differenti o che comunque non sono abituati a giocare insieme perché sia veramente un obiettivo importante per un allenatore riuscire è un obiettivo importante e più importante è più tempo devo spendere per questo obiettivo perché noi allenatori quando valutiamo una squadra la valutiamo per percentuali sotto l'aspetto tecnico tattico e fisico e fisico e usiamo tanto tempo per questi tre elementi sotto l'aspetto psicologico usiamo una percentuale inferiore ma se andiamo a vedere poi le dichiarazioni dei grandi allenatori che hanno vinto dovrebbe essere al contrario perché se io vado a creare il gruppo è più probabile che io raggiunga degli obiettivi ovvio non è che se io creo gruppo e ho giocatori di scarsa qualità vinco no è una qualità motivazionale psicologica deve essere tanto o leggermente superiore rispetto alle altre qualità ok puoi andare avanti grazie infatti dopo ci arriviamo anche la domanda che mi hai fatto qui vi siete mai trovati in questa situazione guardate le immagini SABO sì è capitato tanto sono le cose di campo certo chi ha allenato è impossibile non averle provata ma anche chi ha giocato per dire ho messo questo perché io e mio fratello andiamo d'amore d'accordo però litigavamo anche nel senso che c'è aneddoto a Perugia abbiamo giocato Perugia Brescia siamo partiti in contropiede e abbiamo con uno o due saltato l'ultimo uomo e ho ricevuto palla da mio fratello ci siamo presentati davanti al portiere e io invece di ridarla a lui che faceva gol a porta vuota ho calciato in porta ho sbagliato il gol nella parata vincevano 2-1 poi Perugia ci pareggia due minuti dalla fine due pari negli spogliatoi una rissa incredibile tra me e mio fratello voi non avete idea ma ci siamo pizzati come sapeva ci sgridava non si litiga fratelli ma una rissa dove Tony gli abbiamo fatto l'occhio nero perché ha cercato di dividerci il povero Vittorio Mero era a piedi scalzi e con i tacchetti gli abbiamo tagliato il collo del piede e una rissa incredibile sapete cosa ha fatto l'allenatore la società i compagni di squadra con noi niente non hanno preso nessuno né allenatore né società né giocatori hanno preso provvedimenti nei nostri confronti perché loro vedendoci giocare eravamo fratelli così ci hanno fatto come una squadra noi eravamo già squadra e risolvetevela voi ok detto questo per far capire il concetto che un allenatore di calcio si trova davanti a queste situazioni perché fan parte del gioco del calcio a chi non è capitato una situazione tra compagni di squadra oppure anche d'allenatore a dover dividere due giocatori quello succede e fa parte del gioco fa parte di una squadra come possiamo applicare questa formula prova andare avanti a volte non sono situazioni necessariamente negative no perché vuol dire che comunque c'è la presenza della voglia dei giocatori bravissimo 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 per farti un esempio Ibrahimovic che è sulla bocca di tutti litiga con un compagno di squadra è perché in questo momento sta portando l'ideologia del vincere a tutti i corsi possiamo anche litigare ma il nostro obiettivo è vincere per cui vado allo scontro ok questo succede succede ad altri bisogna vedere un po' come gestire la situazione infatti quello che hai detto va il processo vecchio è questo è un litigio l'allenatore pensa e se ve lo dico io schiaccia un attimino ah no si vede scusate si vede cosa mi dice la mia esperienza ok mi è successo così vado in azione e mi comporto questo è il processo vecchio che fanno o che facciamo tanti allenatori io lo facevo prima del lockdown e tutto questo è il processo vecchio che fanno tanti allenatori in base alla mia esperienza poi deciso cosa fare in base anche a chi ho di fronte vedo un po' cosa fare in base alla società in base a tante cose ma sta parte stavo dicendo nel frattempo che poi ti basta dare due piettorine sbagliate durante la partitella che queste situazioni Jack fa il suo commento e dice che tuo fratello ha staccato il wifi dopo il racconto della rissa e perché non gli ha costato la palla credo io anche ha costato il wifi perché non gliel'hai ripassata e avete pareggiato è vero è vero è vero sicuramente ha fatto lo scherzo e poi ci chiedono se vado con la rissa mister prima di ripartire ci chiedono chi ha vinto la rissa tra i due tu Emanuele o un paretto ma nessuno dei due solo che ci siamo pizzati veramente tanto pensate che eravamo in doccia arriva il secondo di Carlo Mazzone e Menichini fa ma chi di voi due non ha dato la palla a dieci minuti dalla fine abbiamo fatto su un casino finale per dire non ci avevano fatto nulla non avevano preso nessun eh ma poi tra fratelli mister chi ci si mette in mezzo capito fossero due giocatori tra virgolette strani forse anche per certo ma infatti è qua che io voglio arrivare nel processo vecchio succede che vado sull'esperienza allora non avendo sfruttato magari la psicologia vado a prendere provvedimenti se andiamo avanti con la slide che continuiamo questo è il processo è il processo nuovo c'è una rissa tra compagni di squadra l'allenatore pensa e va ad usare la parte psicologica di uno studio fatto per anticipare queste situazioni pericolose ed entra in azione ok vai pure avanti cosa devo sapere per iniziare questo percorso la prima cosa è questa che la mente è il complesso delle possibilità e dei contenuti intellettuali e spirituali dell'individuo cioè questo fa parte della mente che ogni persona ha e fa parte questa la mente è compresa nella nostra coscienza abbiamo nella nostra coscienza c'è la sensazione ok quando abbiamo la sensazione una sensazione positiva negativa questa è una situazione che fa il nostro cervello la nostra mente c'è il pensiero siamo abituati a pensare facciamo dei pensieri abbiamo l'intuizione taglio sul primo palla arrivo sulla palla inzaghi per dire avere una grande intuizione se il primo palo faceva gol ok quella è l'intuizione ma come nella vita di tutti i giorni ho l'intuizione che oggi punto il numero 20 al super renanotto e vinco quella è un'intuizione che fa parte della nostra mente la ragiona facciamo dei ragionamenti ok se io faccio questa determinata cosa potrebbe una persona ragiona la memoria la memoria la nostra mente ricorda ha una memoria ha una memoria corta lunga insomma breve dipende un po' dalle situazioni e ha la volontà la volontà di fare le cose quella volontà dove se io voglio fare una cosa ho uno scopo una passione devo la mia mente sviluppa quella volontà di fare una determinata cosa ok questo è il primo concetto che un allenatore deve sapere per fare il processo nuovo che ogni giocatore ha una mente e la mente funziona in questo modo l'allenatore non può prescindere da questo piuttosto che andare a lavorare sull'esperienza vado a lavorare sul processo nuovo e deve sapere questo concetto una domanda su questo aspetto scusami se ti interrompo ma Ale tu ora poi indietro su sul discorso della mente quanto l'allenatore ci deve andare a lavorare dentro al campo e quanto invece è importante l'extracampo nel processo poi che deve portare un giocatore a crescere sotto questo aspetto ma ci deve lavorare ripeto in percentuale superiore a quella che lavora sulla parte tecnica nel senso o tattica quando noi facciamo vedere un video di tattica alla squadra o di una situazione tecnica alla squadra impieghiamo del tempo e lo facciamo prima o dopo l'allenamento lo stesso discorso vale per la parte psicologica perché io prima di un allenamento ma io questo lo dico perché l'ho fatto anche a Livorno per il lockdown perché dovevamo fare gli allenamenti prima individuali poi gruppi di cinque e poi di squadra perché il regolamento non permetteva di fare allenamenti subito collettivi per cui prima o dopo l'allenamento devo andare a lavorare sul singolo giocatore prima in fase in fase di che conoscitiva ritiro prima dell'allenamento o la sera prima di andare a dormire perché non posso chiamare tre giocatori e cominciare a conoscerli quindi l'extracampo è importante extracampo perché prima extracampo e poi una volta che io li conosco extracampo quando vado in campo li conosco già personalmente ok conosco il suo tipo di carattere lo conosco mi avvicino per conoscerlo il più possibile faccio sempre l'esempio tecnicamente io conosco un giocatore nuovo all'inizio lo guardo non lo conosco dal primo giorno lo conoscerò dopo un mese quali caratteristiche può avere lo stesso vi chiedo ma in un mese se io faccio in percentuale lavoro in percentuale sulla parte psicologica del giocatore in un mese riesco a conoscerlo penso proprio di sì ovvio ne ho 25 ma come ne ho 25 sotto l'aspetto tecnico tattico e fisico ne ho 25 pure sotto l'aspetto mentale per quello che dobbiamo alzare il tempo il tempo a disposizione per la parte psicologica infatti mister volevo raccontarti questo aneddoto ti ricordi Sabo ne aveva parlato forse il nostro Gigi Maragliano nei suoi anni almeno ci ha raccontato un episodio in cui c'era un giocatore nuovo non ci aveva fatto il nome e c'era Ancelotti se non sbaglio erano in ritiro e ci ha raccontato che praticamente una sera sono andati a mangiare poi finito di mangiare sono andati tutti via il giocatore ha chiesto ad Ancelotti di poter parlare con lui sono rimasti dentro al locale sono rimasti a parlare 45 minuti escono lui e il giocatore e Gigi fa ad Ancelotti ma che cos'è che ti ha detto e lui fa ma non lo so ma non sono neanche stato ad ascoltarlo più di tanto però ho visto che quando abbiamo parlato lui alla fine era felice perché io l'avevo ascoltato per 45 minuti quindi tutto quello che hai detto tu lo vedo molto in questo episodio sì sì sicuramente perché Ancelotti conosco i suoi metodi di lavoro e come dicono tutti è più un allenatore di gestione che valorizza molto la gestione piuttosto che magari la parte tecnica tattica e fisica non è che non la fa ma però integra molto la parte psicologica perché lo conosco da tantissimi anni e uno dei primi corsi che ho fatto ma proprio 30 anni fa c'era Ancelotti c'era anche Sacchi che lavoravano sotto questo aspetto motivazionale ok cosa va a creare la coscienza vai pure avanti la coscienza va a creare l'identità di ogni singola persona ok e il concetto di identità riguarda la concezione che un individuo ha di se stesso nell'individuale e nella società l'identità è l'insieme di caratteristiche uniche che rendono l'individuo unico e inconfondibile è per quello che io ho detto noi tre siamo diversi l'uno dall'altro e abbiamo una nostra identità ok e quindi ciò che ci rende diverso dall'altro l'identità non è immutabile ma si trasforma con la crescita e i cambiamenti sociali perché la mia esperienza io mi sono creato la mia identità ed è anche cambiata un po' in base ai contesti dove sono vissuto e i miei comportamenti le mie capacità e tutto il resto vai avanti come si forma l'identità vai dunque l'identità di ogni singola persona e qua stiamo parlando anche dei giocatori ritornando al discorso di prima ho il tempo in ritiro conosco due giocatori la mattina due il promeriggio prima di fare il momento due la sera sono già sei e vado a creare questa parte conoscitiva dell'aspetto dell'identità di ogni singolo giocatore ma è un lavoro che vuoi fare tu individualmente come allenatore o è un lavoro che vuoi che faccia anche il tuo staff dunque sei bene che a te danno delle informazioni a me ne danno delle altre e poi è una condivisione ma diciamo che ovviamente in tutto questo che vi sto dicendo per far questo devi avere delle tecniche delle tecniche ok e l'allenatore deve conoscere queste tecniche comunicative per far sì di conoscere la persona che hai di fronte però molti allenatori magari guardano più la parte tecnica la parte tattica come gioca la mia squadra come gioca gli avversari la parte fisica che è curata dal preparatore guardano più quelle cose e magari invece di fare spendere ore sulla parte psicologica facendo corsi come si dice frequentando webinar alzando la propria capacità psicologica e usando metodi di lavoro non va su quello va sempre sulle prime tre tecnica tattica e fisica ok ovviamente io dico questo perché bisogna conoscere delle tecniche comunicative per far sì che il giocatore di fronte si apra io come posso fare se voglio che si apra gli faccio delle domande faccio parlare ma del più del meno di qualsiasi cosa e io capisco che persona è ovviamente abbinato a questo vado a vedere anche dove è cresciuto infatti il primo tassello della propria identità è sempre l'ambiente dove sei cresciuto cosa voglio dire io che abito in una città di montagna avrò un'identità diversa da quello che è nato al mare perché l'ambiente cambia tanto ok e i comportamenti cosa cambia cosa nell'ambiente io faccio sono i comportamenti in base all'ambiente dove sono io mi comporto esempio giungla un bambino nasce nella giungla un bambino nasce all'ultimo piano di un grattacielo a sei anni il bambino della giungla per salire all'ultimo piano prende la liana il bambino di sei anni schiaccia il pulsante dell'ascensore e allora io posso parlare e motivare allo stesso modo queste due persone no non lo so bravi ok perfetto perché uno potrebbe capirmi l'altro no ma se io vengo se io vengo dal mare uno della giungla e uno della città e magari non li motivo tutte e due per cui io nelle dinamiche conoscitive in ritiro o quando subentro così devo conoscere questa piramide conosco il giocatore dove è cresciuto che comportamenti ha avuto quali capacità ha ottenuto in base ai suoi comportamenti perché esempio ho allenato il lumezzane discussione tra giocatori tra l'altro difensore dice all'attaccante devi rientrare velocemente l'attaccante devi salire più veloce litigavano per queste situazioni io conoscendo questo meccanismo il giorno dopo riunione di squadra gli ho presi ho detto secondo voi chi ha ragione dei due e loro riflettevano io ho detto secondo me potete aver ragione tutte e due solo che la vedete nelle prospettive diverse perché magari a te hanno insegnato che quando si perde palla si rientra e a te ti hanno insegnato il contrario io non lo so che allenatori avete avuto però ho visto che visto che adesso sono io allenatore in questa situazione si fa così finito perché io ho sviluppato questa questa piramide qua perché loro avevano nel loro percorso di carriera diversa dall'ambiente ai comportamenti hanno acquisito queste capacità erano tutte e due giuste ma insieme andavano in conflitto ok dopo le capacità infatti loro hanno litigato parecchio in campo perché loro erano convinti avevano le proprie convinzioni no è così per me A e per me B perché in base anche al bambino che cresce nel grattacielo quello che cresce nella giungla hanno delle convinzioni diverse no io non ho bisogno di prendere l'ascensore tu sei pazzo io vando sull'agliana ci metto di meno ma cosa stai dicendo in base alle convinzioni ok e questa piramide si forma l'identità di ogni singola persona in questo caso che stiamo parlando di sport stiamo parlando di giocatori se un allenatore ha in mente questa piramide e delle tecniche per gestire e conoscere i giocatori che ha di fronte crea più parte conoscitiva tra allenatore e giocatore mi sarebbe tu nella tua esperienza da giocatore hai incontrato degli allenatori che avevano questo tipo di capacità di caratteristiche dal punto di vista comunicativo se sì chi sinceramente no perché non mi è mai capitato un certo tipo di lavoro perché come ho detto prima ho scritto il processo vecchio perché molti allenatori ai miei tempi da giocatore andavano sulla propria esperienza sul proprio come sono io d'allenatore voglio che le cose siano fatte così e si fanno così non guardavano minimamente chi avevano di fronte ovviamente ovviamente dobbiamo parlare anche che i giocatori di adesso sono diversi dai giocatori di una volta probabilmente gli allenatori di una volta potevano permettersi questa autorità perché l'ambiente era diverso beh Anto credo che in ritiro voi sicuramente facevate più gruppo di quello che fanno al giorno d'oggi bravissimo vedi infatti come vi ho detto prima non puoi allenare come ieri i ragazzi con la testa di oggi ma non perché sono più tra virgolette sfortunati di noi no perché sono cresciuti in un ambiente diverso vedete la piramide nell'ambiente che crescono adesso ambiente o che sono cresciuti di conseguenza cambia tutto il resto cambia tutto il resto per cui se loro non sono abituati a delle maniere forti perché a diversità nostra noi per dire andavamo a giocare all'oratorio ci confrontevamo anche con gente di vent'anni io ne avevo dieci giocavo contro gente di vent'anni ok e mi si sviluppava la personalità perché se volevo primeggiare dovevo avere una certa personalità di affronto a questi vent'anni ora i ragazzi i ragazzi secondo voi con la tecnologia che c'è si confrontano con gente più grande di dieci anni fan fatica tante volte a confrontarsi tra di loro quindi certo quindi perché si crescono tra di loro non hanno più vanno a casa si mettono davanti al computer o davanti al telefonino e si conoscono tramite amici della stessa età perché io ho due figlie loro conoscono solo persone della stessa età perché non ne conoscono noi invece ci confrontevamo anche con gente più grande perché la strada ti faceva fare questa cosa ma non è una colpa è che l'allenatore probabilmente di una volta poteva permettersi un certo tipo di discorso perché noi eravamo abituati ora è più difficile molto più difficile per farvi un esempio per motivarli ora se gli dici ragazzi se vinciamo a fine partita ci facciamo un selfie tutto insieme con il cartellone per far vedere che abbiamo vinto dai che abbiamo mille like a testa li puoi motivare è incredibile è cambiato è cambiato e allora in base alla piramide che vi ho fatto vedere un allenatore deve sapere questa piramide e come gestire la riunione ecco e vorrevo arrivare a questa slide che è la parte tattica la parte fisica tranne insieme al preparatore oppure insieme a collaboratori ok ma anche la parte psicologica infatti ho fatto la piramide e non in base all'esperienza ma in base alla piramide e così vado a creare e poi lo inserisco nel gruppo squadra ok io lo conosco lo conosco in tutte le sue qualità perché sono andato a veramente a lavorare su questo ok vai pure avanti se avete domande chiedetemi dunque praticamente io vado a lavorare su ogni singolo giocatore che va a formare un gruppo il gruppo è composto da titolare riserve e quelli che vanno in tribuna i titolari quelli che giocano spesso e volentieri le riserve sono quelle che entrano oppure non entrano però sono lì in procinto e quelli che vanno in tribuna perché magari non sono all'altezza ma perché sono anche infortunati quello fa parte del gioco e vado a costruire la mia squadra ma non vedete che non ho messo le facce di giocatori che giocano no vado a costruire una squadra di elementi con quella con quel modo di pensare ho sentito qualche tempo fa un'intervista di Allegri dove diceva che da un punto di vista gestionale lui preferisce che i giocatori abbiano chiaro in testa il ruolo che hanno e mi riferisco a titolare o riserva certo ti ritrovi questa cosa per la gestione psicologica? sì mi ritrovo tantissimo al 100% perché e tra l'altro l'ha detta ieri anche Capello Capello ha detto che se tu prendi ogni singolo giocatore e gli dici dopo tre mesi di fare la squadra titolare di quella squadra dove militano per dieci undicesimi mettono quella che mette l'allenatore perché dico questo e perché Allegri ha detto così perché il giocatore riconosce il titolare e il non titolare le riserve e i panchinari li riconoscono succedono casini perché ovviamente chi non gioca è scontento e allora si ribella a quella situazione per voler giocare di più ma lui lo sa benissimo che ha qualcosa in meno sono riuscito a farmi capire se il giocatore lo sa però se l'allenatore lo mette in chiaro comunque mette più a fuoco la è certo infatti nel linguaggio degli allenatori tipo capello Allegri si evince proprio questa cosa qua che il gruppo si identifica nel gruppo stesso perché nel gruppo stesso ci sono i leader ci sono i gregari ci sono quelli di qualità ci sono quelli di non qualità il gruppo si identifica si molto passa anche dalla capacità di autovalutarsi poi tu singolo giocatore comunque quella capacità di autovalutarti per cui sai se sei meglio sei comunque peggio anche se magari non lo ammetti perché spesso poi succede che uno non lo vuole ammettere però poi nella testa di ognuno credo che ci sia questo tipo di discorso certo sì nella testa di ognuno sa per dire di bala si è lamentato più che lamentato i suoi atteggiamenti perché uno che studia psicologia va a guardare l'atteggiamento che un giocatore fa più che le parole perché sono gli atteggiamenti che contano che il non verbale che in percentuale ti dice molto di più del verbale e del paraverbale ok il non verbale ti dice di più di tutto al 30 e 40 o 40 per cento e di bala ha manifestato il suo malessere con gli atteggiamenti perché sa benissimo che nella juve di quest'anno sta più in panchina perché c'è Ronaldo e sa benissimo che Ronaldo non gli ruba il posto e sa benissimo che Morata magari se la giocano però nell'economia di squadra pensate che di bala non sappia che Morata sia più utile alla squadra questo comportamento è anche autodistruttivo penso nel caso di un giocatore come di bala che se ti poni in questo modo poi le speranze di far corpo sono ancora meno sull'allenatore infatti se tu hai un dialogo all'inizio dell'anno con di bala sotto l'aspetto psicologico e non di esperienza può essere che lui quando abbia la partita a disposizione cambi proprio l'atteggiamento in modo positivo ok se io invece non curo l'aspetto positivo e vado solo sull'esperienza può essere che magari entri e faccia la differenza perché è motivato ma può essere anche che non lo faccia perché è una carta che tu non sai come la giochi anche questo fa parte del giocatore magari di bala abituato comunque ad essere al centro non lo puoi mettere io ti faccio un altro esempio mister penso a Muriel che in questo campionato da subentrato sta facendo delle cose incredibili nonostante comunque non parta quasi mai titolare perché davanti a lui c'è Zapata certo perché lui molto probabilmente nella sua testa inconsciamente io poi non lo so come ha lavorato Gasperini stiamo facendo dei discorsi un po' magari ha lavorato sotto l'aspetto psicologico gli ha andato a dire guarda tu vieni qui sai che parti sempre dalla panchina perché Zapata è il nostro giocatore più forte non può non giocare lui l'ha accettato io non so come abbia lavorato però nella sua testa Muriel ormai dice no no ma io a me basta giocare 35 minuti faccio sempre gol sono il capocannoniere dell'Atalanta chi me ne frega a me di giocare 90 minuti mi allungo anche la carriera si è magari automotivato in questa situazione io questo non so come abbia lavorato Gasperini perché non sotto l'aspetto psicologico magari ha lavorato con il processo nuovo io quello non lo so magari ho quell'esperienza io questo non lo so magari gli è andata bene gli è andata male non lo so ok andiamo pure avanti cosa manca l'essere squadra ok qual è la differenza tra l'essere un gruppo ed essere una squadra è una bella differenza perché il gruppo è determinato da una quantità di persone che svolgono funzioni analoghe e condividono lo stesso ambiente ma che realizzano le loro funzioni in modo individuale e senza che il lavoro di uno dipenda dall'altro c'è un giocatore viene inserito nel gruppo ma da qui a diventare squadra devi formare la squadra con delle connessioni infatti la squadra è costituita da un gruppo di persone che lavorano tutte per raggiungere lo stesso scopo ricordate Guardiola o Klopp cosa hanno detto lo stesso scopo il risultato del lavoro dipende dalla collaborazione di tutti Muriel che è consapevole di entrare 30 minuti ma è utile alla squadra ok tutti lavorano individualmente perché Muriel lavora individualmente ma anche insieme alla squadra e così formi la squadra vai pure avanti ok come crea una squadra con le connessioni tra i giocatori ok oltre a io conoscere i giocatori una volta che li ho conosciuti faccio anche riunioni a gruppi di due tre quattro cinque giocatori o di reparti o di catene vai pure avanti ok infatti qua l'ho scritto come creo questa connessione tra giocatori è vado a creare dei gruppi da due o più giocatori formando dei reparti o delle catene e oltre a lavorare sull'aspetto specifico della componente lavoro sull'aspetto caratteriale conoscitivo tra i giocatori formando così una squadra molte volte noi possiamo fare delle riunioni psicologiche come tecniche tattiche e anche fisiche e le trasportiamo anche in campo ma devo trasportare in campo quella parte conoscitiva la parte psicologica lavoro di scusami Jacopo una domanda sola ma questo quanto lo posso fare da un punto di vista metodologico inserendo un discorso di gioco competizione partitelle a squadre all'interno dell'allenamento cioè è produttivo o nocivo creare della competizione tra due squadre all'interno di un allenamento non è nocivo perché la competizione tra due squadre fa parte dello sport io devo prevalere sul mio diretto avversario che in quel momento lì purtroppo è un mio compagno di squadra può aiutare a fare partitelle perché comunque crea quel senso di squadra già dentro l'allenamento è certo è certo ma infatti ma non si crea non solo attraverso le partitelle si crea anche nelle corse nelle gruppi è certo nei gruppi molte volte si lavora gruppi di 5-6 giocatori cioè fai il gruppo forte sulla corsa ma di quei 6 c'è sempre la competizione di quello che vuole arrivare primo e quello che non vuole arrivare ultimo e non si sta parlando di calcio si sta parlando di corsa oppure del fare la palestra il preparatore atletico lavora sulla palestra il sollevamento pesi quanto hai sollevato 10 kg eh io 12 e mezzo è già gli competizione però quella competizione sia in campo tramite le partitelle deve essere positiva costruttiva e dove la vado a creare io allenatore conosco i giocatori come all'inizio dandomi tempo e dando tempo all'aspetto conoscitivo tra me i giocatori e tra i giocatori i giocatori come risolvo le situazioni critiche vai ok questa è ve la leggo la leggete voi questo te la leggo io solo perché quando lo vedo mi ha colpito particolarmente certo vai per la semplicità del concetto che sta dietro ma poi in realtà è forte in base a tutto quello che abbiamo detto è forte questa cosa assolutamente un'azienda aveva un enorme impianto idraulico che aveva smesso di funzionare e l'intervento di diversi idraulici e manutentori si era rivelato inutile l'amministratore delegato dell'azienda decise di ricorrere ad un altro idraulico di cui si parlava molto bene e che fu chiamato per il giorno seguente questo idraulico era un omino con un'aria molto professionale andò in giro per tutto l'impianto con la sua valigetta a 24 ore ad osservare tutto anche nei minimi particolari ad un certo punto aprì la valigetta e tirò fuori un piccolo martello si avvicinò ad un tubo e lo colpì leggermente e miracolo l'amministratore delegato sollevato chiese all'omino a quanto ammontasse la sua aspettanza e l'omino rispose 1000 euro non sono un po' tanti 1000 euro per un colpetto di martello mi faccio avere una distinta del suo lavoro è presto fatto rispose l'idraulico per il colpo di martello un euro per aver saputo dove darlo 999 euro quello che è rimasto a me è proprio che devi capire prima quello che c'è da fare poi l'intervento tante volte è più piccolo di quello che ti aspetti che debba essere certo infatti questa storiella l'ho messa perché se un allenatore gestisce bene la parte psicologica all'inizio della stagione ma anche quando subentra quando ci sarà un problema perché conosce bene i giocatori e i giocatori si conoscono tra di loro quando c'è un problema basta un colpetto di martello e tutto si risolve non c'è una situazione difficile da sbrogliare perché io so già dove andare a battere quel colpo di martello vai pure avanti infatti qua vi metto vi ho messo qua le connessioni tutte tra i giocatori ok c'è un litigio tra terzino destro e interno destro io non faccio la riunione di squadra per dire far l'esempio no vado a ripristinare la connessione tra questi due giocatori e avendo fatto anche il discorso di gruppi non la faccio non la risolvo io la faccio risolvere a loro come come mai avete litigato perché avete avuto questo questa problematica ci arrivano da solo al perché e al come risolverla perché caratterialmente si conoscono perché dico questo perché io e mio fratello ci conoscevamo avevamo sapevamo pregi e difetti l'uno dell'altro abbiamo litigato tantissimo a Perugia ma essendo squadra è bastata un'occhiata una stretta in mano era finita lì e se io vado a creare queste connessioni alzando il tempo e le percentuali sulla parte psicologica ovviamente con le giuste competenze io forse non ho neanche bisogno di dare quel colpo di martello perché se lo danno loro il colpo di martello detto questo questa metodologia quante vi faccio questa domanda quante volte vi è capitato che il portiere urla alla punta devi fare gol ok oppure la punta grida al portiere oh e poi succede più volte più volte a partita più volte a partita ok se io vedo questa cosa questa situazione so che la connessione tra punta e portiere non ci dovrebbe nemmeno essere va bene c'è solo quando ci sono le palle inattive nei corner la sfavore c'è una connessione di posizioni o di marcature allora lì c'è una connessione ma nel gioco meno una rimessa dal fondo però però alla fine ti capita non c'è connessione se c'è una discussione così io allenatore la prima cosa che devo pensare è non ci sono connessioni c'è la piccola connessione qualche volta la rimessa dal fondo qualche volta vuol dire che negli spogliatoi c'è qualcosa che non funziona tra di loro perché negli spogliatoi noi non ci entriamo ma come vi ho detto prima nello spogliatoio c'è un gruppo ci sono dei leadership delle leadership da mantenere perché stanno discutendo questi due giocatori io vado li richiamo e gli faccio capire la problematica quindi se non c'è una connessione dal punto di vista tecnico tattico definiamola così vuol dire che c'è un problema fuori fuori infatti perché in questa centrale centrale ci sta che uno dice all'altro devi fare la copertura perché io sto marcando e tu devi coprire certo un attaccante giustamente certo perché infatti oltre a gestire le situazioni che vedo vado a gestire anche con questo modo quelle che non vedo e quelle che non vedo sono dentro gli spogliatoi perché io non posso sapere poi cosa fanno dentro gli spogliatoi e fuori dagli spogliatoi chi me lo dice a me che la punta e il portiere hanno avuto una discussione perché negli spogliatoi hanno avuto un battibecco estracalcistico o perché due non si sopportano ok io vedo questa allora vado a creare questa connessione e dico ragazzi qual è la situazione qual è il suo aspetto caratteriale questo è non abbiamo sistemo devo sistemare questa situazione mi fa capire che posso gestire non solo il campo ma anche quello che non vedo tanto ma nella tua esperienza di giocatore hai tirato importanti spogliatoi importanti con giocatori veramente di spessore sono figure che in questo genere di situazioni intervengono e sai che l'allenatore comunque un minimo tra virgolette demanda loro perché hanno talmente tanta personalità che sanno rimettere in piedi queste cose e l'allenatore resta un metro indietro perché come ci siamo detti prima nello spogliatoio non ci si entra quasi mai se non nei momenti della partita per intenderci o che sia comunque il caso rimarcarlo tu il concetto ma diciamo che per la mia esperienza ci sono giocatori stratosferici che non ha mai non sono mai intervenuti perché il loro carattere non era magari non aveva una certa leadership sul gruppo giocatori meno stratosferici avevano quella personalità di andare a sistemare le cose tra giocatori o più giocatori io per allora l'allenatore deve saper capire cosa c'è dentro il gruppo come i gruppi le dinamiche degli spogliatoi la dinamica di gruppo c'è il gruppo squadra dentro il gruppo squadra ci sono dei sottogruppi i sottogruppi si formano con le leadership con i gregari con i silenziosi con i timidi con con tutte queste situazioni per cui il l'allenatore deve stare attento a queste cose qua psicologicamente parlando conoscendo la piramide non deve solo fossilizzarsi sulla parte tecnica tattica o fisica che sono importantissime non sto dicendo che però alziamo il livello mentale psicologico per la gestione di squadra per diventare squadra più velocemente possibile perché io ho avuto giocatori veramente bravissimi dove non avevano bisogno baggio per dire non parlava parlava pochissimo era un giocatore che bastava mettesse la fascia sul braccio fine perché era baggio Ibraimovic per farvi un esempio è al contrario ma io non l'ho conosciuto Ibraimovic però per sentito dire anche per ho visto un'intervista di Ambrosini e gli fa ma gli rompi le scatole a tutti come quando facevi con noi questo ti fa capire che lui dentro gli spogliatoi è un leader ma non so se avete visto il film di Michael Jordan sì cos'è che vi ricordate beh sicuramente la sua grande personalità anche aveva la capacità di gestire anche l'effetto che aveva su chi giocava con lui certo però non so se poi vorrei dirci qualcosa ma è un po' che ci sto pensando tornando a questo qua vi chiedo ma infatti se noi ci fossilizziamo su Michael Jordan aveva grande personalità però perché non diceva niente a Rodman e Rodman partiva stava via tre o quattro giorni ritornava e ha giocato la finale ogni persona parlava forse che se stava a parlarci in un certo modo era controproducente per la squadra forse bravissimo infatti probabilmente o involontariamente si sono conosciuti quel quintetto base insieme alle riserve si sono conosciuti talmente bene che Michael Jordan pur avendo una grande personalità rompeva le scatole a tutti a Rodman perché lo conosceva vai pure e l'allenatore cosa ha fatto Phillips ha detto no no io non faccio niente perché aveva capito che il gruppo si autogestiva e accettava delle sfaccettature magari non professionali diciamo certo perché c'erano delle leadership le leadership c'era Pippen che non diceva niente era la guardia era il giocatore non diceva niente era il giocatore meno valutato però tranquillo Rodman rompeva Michael Jordan non rompeva le scatole a Rodman perché Rodman aveva un'altra leadership però si conoscevano non si andavano a per cui ogni gruppo va valutato va veramente studiata la dinamica di gruppo come psicologicamente parlando non d'esperienza perché d'esperienza potresti fare giocare delle carte ma non le vedi le tiri a caso se ti va bene bene invece psicologicamente guardo le carte posso comunque perdere la partita ma almeno so che carte mi gioco come la tecnica come la tattica uguale no dicevo mister è giusto secondo te dire che ci sono puoi riconoscere che ci sono diversi tipi di leadership io leggevo un libro molto interessante su questo di Ancelotti che lui dice che all'interno di uno stesso gruppo ci sarà il leader tecnico ci sarà il leader che quindi quello che va in campo e ti fa la differenza il leader poi dal punto di vista della personalità nello spogliatoio quindi ci sono il leader silenzioso ci sono vari tipi di leadership non ce n'è una no no infatti è per quello che ho parlato di ho parlato di sottogruppi per quello perché in un gruppo squadra ci sono diversi sottogruppi ci sono diverse leadership ovviamente c'è sempre quella magari un po' predominante quella un po' meno però ce ne sono tante e queste leadership l'allenatore deve essere bravo a riconoscerle e capire se possono autogestirsi oppure far sì che loro si conoscano l'allenatore di Michael Jordan e Rodman aveva capito che si stavano autogestendo via lascio libertà loro tante si resistiscono si tirano le orecchie l'uno con l'altro ma sono positivi se io capisco che queste due leadership vanno allo scontro allora devo intervenire come intervengo già io li conosco con la parte conoscitiva che ho fatto a inizio stagione perché so come Rodman e so come Michael Jordan se si scontrano so come sono fatti caratterialmente tramite la loro coscienza la loro identità che formano l'identità se invece fa parte della conoscenza eh sì fa parte della sì è quello è quello dove si deve andare secondo me a lavorare con più percentuale rispetto alle altre agli altri elementi che sono tanto uguali e tanto importanti solo che eh dico sempre questo lavorare sulla tecnica sulla tattica e sulla parte fisica è più semplice perché è tangibile nel senso che lo vedi fino a un riscontro certo hai un riscontro visivo e hai un riscontro tuo di sicurezza per dire per fare un esempio esercitazione di sabato tirano 20 volte in porta fanno 18 gol cosa diciamo grande allenamento perché hanno preso sempre la porta hanno fatto sempre gol poi la domenica non la becca mai quando lo fanno il sabato tanto sai che la domenica è un casino però hai hai riscontro visivo e valuti l'allenamento se è andato bene o è andato male anche l'aspetto tattico uguale se si muove un bene hai l'aspetto visivo sono allenati bene poi dopo magari delle difficoltà l'aspetto fisico lo vedi magari un po' di meno perché devi usare l'occhiometro così se uno è stanco piuttosto però hai il valore aggiunto dei GPS per dire in questo momento nel calcio nuovo i GPS ti danno un supporto importante e una sicurezza tua da allenatore prof come si sono allenati grande allenamento guarda qua i dati vai a casa tranquillo la parte psicologica io ti do ma non ricevo nulla in cambio nell'immediato poi magari nel lungo si però nel lungo si non so se hai visto sotto che Superpagno ci dice che il rischio è che poi si vadano però a creare dei macro gruppi due macro gruppi gestiti da due leader e quindi poi si viene a creare una situazione invivibile nello spogliatoio magari no? ma se si creano questi due macro gruppi vuol dire che io prima non mi sono accorto di determinate tipi di situazioni se intervengo per tempo invece evito che si vengano a creare questo certo infatti attaccante portiere no? quello che dicevamo prima bravissimo quello perché se io faccio un lavoro dico sempre psicologico per far capire il concetto se lo faccio all'inizio dell'anno non è che questi due macro gruppi si formano dopo tre giorni si formano dopo un mese un mese e mezzo due ci vogliono del tempo degli avvenimenti anche bravissimo se l'annegatore è improntato sulla psicologia sul vedere non solo la parte tecnica tattica e fisica ma è improntato a vedere la parte psicologica si accorge dei minimi cambiamenti che fa il gruppo ok? ti accorgi ti accorgi perché per fare un esempio io oltre all'allenatore come abbiamo detto prima all'inizio ho studiato anche queste cose e da vent'anni che ci sono dentro che batto questa situazione mentale che deve essere insieme alle altre tre elementi mia figlia per dire 16 anni telefonino è sul divano a 16 anni mi siedo lei rimane lì col telefonino e si fa vedere ok? passano sei mesi stessa situazione mia figlia è sul divano col telefonino mi siedo fa così c'è un cambiamento no c'è un fidanzato Anto può essere qualsiasi cosa avrebbe essere quello il cambiamento effettivamente c'è un cambiamento può essere un fidanzato può essere una fidanzata chi lo sa assolutamente assolutamente sì sì ok? può essere qualsiasi cosa ma se io sto attento a quel minimo dettaglio mi chiedo cosa sta succedendo mi faccio un punto di domanda ma non è che dico oddio mamma mia cosa sta succedendo può essere un cambiamento positivo si sta fidanzando che prove ci sono assolutamente e allora in quel momento che mi faccio questo sto attento come nella squadra se si creano due gruppi importanti dentro lo spogliatoio vuol dire che io allenatore non mi sono accorto delle varie leadership degli aspetti caratteriali ho dato troppo importanza alla tecnica alla tattica alla parte fisica non mi sono proprio interessato alla componente psicologica e poi per evitare questo un allenatore deve sapere che quando entra uno o esce uno dal gruppo già la dinamica cambia per dire io faccio gli esempi per essere più chiaro possibile Mandzukic al Milan è arrivato a gennaio è entrato in un gruppo e lì la dinamica può cambiare l'allenatore lo deve sapere perché quando entra un giocatore chi è quel giocatore che curriculum ha che identità che coscienza ha come ragiona come fa incidere su quel grafico che poi ci facevi vedere prima con titolare le riserve eccetera certo e lo stesso vale quando un giocatore esce se esce un giocatore taciturno ma dentro nel gruppo era un leader taciturno il gruppo squadra poi non ha più un leader se questo qua se n'è andato se l'allenatore non si accorge che quel taciturno è un leader nel gruppo io non so se lo mando via anche se non mi gioca mai perché è l'equilibrio del gruppo stesso per cui un allenatore deve sempre pensare quando entra un giocatore quando esce un giocatore il gruppo cambia la dinamica di gruppo cambia ma per un guardate io non so cosa sia faccio solo l'esempio poi io dopo non so niente sì sì io infatti in questo senso ne parlavo prima anche a Giacomo io ho visto un docufilm sul Tottenham di Mourinho e io sono rimasto molto colpito dal fatto che lui il primo giorno che si insidia sulla panchina del Tottenham va ad allenamento manda il suo secondo forse per un accordo comunque non scritto a capire quelle che sono il primo giorno le dinamiche di spogliatoio quindi poi lui va da Mourinho e gli dice questo è il leader tecnico questo è quello che ha in mano un po' al gruppo degli inglesi questo 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 e quindi si fa subito un'idea al primo giorno di quelle che sono le dinamiche di spogliatoio che è quello che stai dicendo tu certo se sai con me parlo in un modo con Ando parlo in un altro poi è la connessione tra me e Antonio che ci mette nella conoscenza del giocatore probabilmente sì sì silenziosa magari è quello che ti fa accorgere delle reali dinamiche eh sì infatti perché se tu riesci a cogliere come dice il mister dal dettaglio e guarda quello parla con quello ma non con quell'altro quelle cose fanno intervenire nel modo giusto secondo me nel modo giusto e creando degli allenamenti specifici a gruppi di 4-5 giocatori ma io l'ho provato a Livorno per via della pandemia arrivavo al campo alle 2.30 e finivamo alle 6 dovevamo fare allenamenti con 5 giocatori e lo facevamo a catene o a reparti non so catena di destra con la catena di sinistra reparto di difensori reparto attaccanti centrocampisti per 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 le regole e facevamo eh praticamente iniziava eh preparatore riscaldamento poi venivano con me mezzo riscaldamento scusate riscaldamento mezz'ora con il preparatore mezz'ora con me eh allenamento tecnico e mezz'ora di parte fisica finale ok e io a catena ci scalevamo i gruppi e noi stavamo al campo 4 ore perché eravamo eravamo in 30 giocatori fate voi però lo puoi fare eh perché tanto l'ora e mezza di quel giorno lì loro si allenano un'ora e mezza sei tu che devi spendere più tempo e in quel frangente oltre a lavorare sulla parte tecnica fisica e tattica lavori anche sull'aspetto mentale conoscitivo tra di loro conoscitivo tra giocatore e allenatore iniziano le altre due fasi del tuo allenamento staff e società ok infatti bravissimo infatti una cosa importante dell'allenatore è saper delegare infatti Mourinho è un grande perché delega delega il suo secondo il suo collaboratore entra negli spogliatoi mi devi è una delega non lo fa lui perché la cosa fondamentale per un allenatore è saper delegare ovviamente prima di saper delegare il concetto conoscitivo che va fatto con i giocatori va fatto anche con lo staff perché se io e te io ho voi due come collaboratori io devo sapere se Jacopo è un istintivo un pragmatico o un timido se è un timido lo posso mandare dentro gli spogliatoi a far determinate tipi di situazioni per farvi un esempio devo stare attento per cui la piramide non va fatta solo ai giocatori ma anche al mio staff anzi prima al mio staff spesso è simile quel lavoro che devi fare con squadra e staff è vero che lo staff ha gente magari più grande anche quindi può essere differente ma comunque sono caratteri che possono essere simili oppure dissimili a quelli dei giocatori è certo perché ovviamente in una società c'è il gruppo istituzionale il gruppo squadra il gruppo dello staff anche perché io penso che tu puoi comunque allenare a meno da quello che sento parlando con tanti professionisti puoi comunque allenare se hai contro la squadra perché se tutta la squadra è contro di te ma è unita contro di te comunque andrà avanti però se hai contro il tuo staff è lì che secondo me allora iniziano i veri problemi per te certo perché secondo te cosa succede in questo preciso momento che hai detto questa cosa qua perché si va a creare questa connessione negativa nei confronti del mister dici? se staff e mister litigano tu hai un riscontro negativo dalla squadra è perché perché alla squadra arriva perché se io esco dagli spogliatoi ho appena litigato con quello dello staff la mia percezione la mia sensazione negativa arriva alla squadra e per cui solitamente quando c'è questa situazione è meglio aspettare dieci quindici venti minuti prima di uscire perché bisogna e perché quando tu ti confronti con una persona anche con lo staff l'ansia sale e tu non puoi uscire con l'ansia alta devi andare ancora devi ritornare in zona comfort questo lo trasmetti sicuramente si trasmetti tanto certo certo perché perché noi noi le persone come ho detto prima è sempre una situazione che è legata noi le persone comunicano tramite come ho detto prima il verbale il non verbale e il non paraverbale se sei arrabbiato tu non dici nulla però i mani i tuoi muri scusi sono tirati il tuo sguardo è più che hai di fronte lo percepisce e allora quando io sono arrabbiato sono in ansia alta devo aspettare piuttosto aspetto abbasso l'ansia mi sistemo piano recupero energie positive esco a fare allenamento anche perché il loro allenamento è la nostra prima partita noi giochiamo lì realmente è certo lo staff gioca lì dentro gli spogliatoi prima poi si fa l'allenamento e allora ma questo succede secondo me che probabilmente negli staff non c'è grande comunicazione non c'è grande delega oppure c'è troppa delega ok bisogna saper coinvolgere in modo persuasivo coinvolgente la delega è un attestato di fiducia la delega no quindi insomma certo certo è un attestato di fiducia perché se no è difficile poi intraprendere una stagione Jacco no assolutamente credo poi oltretutto che è un elemento che non abbiamo considerato ma le difficoltà nel fare il lavoro che Antonio ha in testa siano date anche dal fatto di avere giocatori di varie culture che parlano varie lingue ed è sempre più difficile far arrivare il messaggio in maniera precisa e corretta tante volte no ci vogliono veramente grandi capacità comunicative secondo me ci vogliono per fare questo che stai dicendo tu mister però è una cosa che poi si è a effetto col famoso 4-3-3 poi piramidale con tutte le connessioni penso che dovrebbe essere l'obiettivo finale di tutti gli allenatori sì sì io tra l'altro ho messo il 4-3-3 ma lo puoi fare con qualsiasi riferimento a quell'immagine di prima sì sì certo nel senso sì sì ti sei fatto capire perfettamente è che è stato veramente io te l'avevo detto anche in presa quando stavamo parlando prima della diretta secondo me sono spunti che a me personalmente a Savo ma molti allenatori secondo me hanno bisogno di integrare le proprie capacità tecnico-tattiche con questo aspetto un pochettino più della gestione del gruppo comunicazione e quindi sicuramente sono tutti passaggi molto molto interessanti che hanno interessato a me interessato Savo e quindi io ti ringrazio personalmente sicuramente per questo che sicuramente credo ti cambierà anche il modo di allenare eh sì ti cambia proprio il modo di allenare perché puoi gestire la situazione in determinate in determinati modi ma soprattutto di tempo il tempo ce n'è solo che magari noi siamo abituati a usare questo nostro tempo per per la maggior parte per le situazioni tecniche tattiche e fisiche soprattutto in Italia quelle tattiche diciamo perché ma infatti tatticamente diciamo che noi siamo molto preparati c'è ampiezza giocare tra le linee giocare fuori linea diagonale c'è di tattica infatti in me c'è una pagina c'è un pennello tattica quindi proprio su lì non si scappa certo no 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 ma infatti questa cosa qua era per far capire che se io voglio una squadra molto tattica devo passare attraverso alla psicologia anche perché se no come fai a dire a un giocatore fai questo se prima non lo convinci che poi è più che convincere bisogna usare il termine coinvolgere coinvolgere perché se lo convinci può essere che invece se tu lo coinvolgi perché lo conosci è più probabile che nel momento di difficoltà lui ti aiuti perché l'hai coinvolto perché gli hai fatto capire che è stato lui a trovare la soluzione l'hai coinvolto però forse è giusto dire allora che per coinvolgere i giocatori tu devi essere convinto delle tue idee tuo allenatore per poter poi trasmettarle quello è imprescindibile nel senso che volente o non volente usando non usando la parte psicologica il trasmettere le proprie idee e far sì che i giocatori le mettano in pratica e credano in quello che fanno è che tu ci credi ci devi credere fortemente è la base su cui poggia la piramide eh sì per forza perché se io credo in questa cosa qua nel processo nuovo e poi vado a fare le riunioni e le prendo la reggiera non ci credo fortemente non la trasmetto non regge tutta la piramide assolutamente cade tutto io ho una curiosità che però è più un aneddoto in realtà lo stesso principio di autogestione che è stato utilizzato tra te e tuo fratello è stato utilizzato anche con mister Mazzone quando è corso sotto la curva o qualcuno è riuscito poi a andarlo a fermare gli autogestioni lì pensa per davanti a uno poi facciamo tre a due il mister mi leva perché leva un centrocampista mette dentro una punta e ero in panchina mi godo proprio sul tre a due se facciamo tre pari io vengo sotto io ero in panchina mi guardo non facciamo mica tre pari è partito proprio ma i dirigenti ovviamente potevano bloccarlo perché avevano 15 anni di meno 20 solo che hanno voluto vedere come andava a finire la scena e niente hanno fatto questa sceneggiata e poi negli spogliettori mi hanno detto mister ma da quanto tempo è che non facevano un allungo di 50 metri e il resto poi è storia mister anche io ho un paio di domande e aneddoti da parti della questione di Ronaldo di quello che ha detto io invece volevo rigirarti la domanda nella tua esperienza da calciatore c'era quel giocatore che dovevi incontrare che dicevi no ma devo giocare con quel giocatore se c'è qualche giocatore in particolare due in particolare tutte e due della stessa squadra Davids e Nedved questi oltre a essere bravi tecnicamente erano bravi sotto l'aspetto della personalità e della corsa erano peggio di noi erano peggio di noi cioè per dire quindi anche la vostra coesione dei due gemelli non riuscivate ad andare più di loro non riuscivamo a contenerli poi Davids aveva pure quegli occhiali mamma mia disastro quei due giocatori lì veramente sotto l'aspetto dell'intensità che dicevi mamma mia oggi c'è da litigare sicuramente lo pensavano anche loro che tutti i nostri avversari però noi lo pensavamo quando affrontevamo sia Davids che Ned infatti molte volte erano belle battaglie e poi non so Savo se hai un'altra domanda così poi lasciamo anche andare il mister che è stato veramente bellissimo ma anche è anche lunga e io ti chiedo mister invece sempre su Mazzone e tu hai avuto modo poi con Guardiola di andarlo a vedere anche come lavorava come lavorava Monaco l'hai conosciuto anche sia allenatore che giocatore l'allenamento in cui Mazzone allenava Guardiola e il rapporto che si creava dal punto di vista delle idee intendo proprio si vedeva delle idee e diciamo che andavano un po' controcorrente nel senso che Mazzone voleva ovviamente allenatore vecchio stampo voleva giocare corto ma poi arrivava la domenica palla a tonitare ma si giocava spesso e volentieri così una volta la torre la spizzata e Guardiola invece già nella sua testa aveva in mente il tiki-taka per cui andavano allo scontro mister ma la lanciano sempre non serve a niente dobbiamo giocarla e lui la prendeva bene perché vi racconto questo aneddoto praticamente Mazzone voleva a tutti i costi Giunti ex giocatore del Milan e la società l'ha contentato arriva Giunti e iniziamo la preparazione e dopo 15 giorni la società cosa fa? sa che Guardiola è libero prende Guardiola e prende Guardiola e Mazzone ma no io non lo volevo sui giornali non lo volevo non lo volevo niente facciamo l'elemento martedì pomeriggio mercoledì mattina mercoledì pomeriggio però tra mattina e pomeriggio faceva la riunione Mazzone dopo due allenamenti riunione davanti a tutti Mazzone fa Fede che era Giunti perché Federico Giunti in Roma fa Fede ma come cazzo faccio non fallo giocare e torna il concetto iniziale di Allegri no? certo e infatti sapete cosa ha risposto Giunti? ha ragione mister in effetti perché il giocatore ha la percezione chi è più forte di me cioè mi devo giocare il posto la sa la formazione su dieci undicesimi ne fanno uguale un altro aneddoto è bello è questo con Baggio praticamente Brescia voleva prendere Baggio voleva prendere Baggio e sempre nella riunione tra i due allenamenti Mazzone seduto sempre con la sua capacità comunicativa tira fuori un bigliettino su questo bigliettino c'è scritto un nome se dovesse arrivare fa quel cazzo che vuole dopo un giorno e mezzo è arrivato Roberto Baggio infatti Roby che oggi è il suo compleanno gli faccio pure gli auguri infatti Roby veniva il mercoledì mattina a fare allenamento non si presentava mai il martedì faceva domenica partita e si presentava il mercoledì mattina però l'arte comunicativa di Mazzone aveva già messo in chiaro fin da subito quando tu metti in chiaro le situazioni il giocatore non ha discussioni non metti neanche alibi né nulla perché sa aveva questa arte comunicativa che era speciale e faceva un po' parte anche del suo personaggio cosa stavo? dico fa parte anche del suo essere personaggio e quindi infatti è una caratteristica che lo contraddistingue probabilmente e sai che diciamo che vi ho raccontato questi due aneddoti ma nelle riunioni era abbastanza sbrigativo nel senso per comunicare la cosa quello che pensava lo diceva però era un allenatore che in tre anni che l'ho avuto non è mai entrato nei nostri spogliatoi una volta mai una volta e sembra un allenatore che magari era pane e salamina scherzi battute no assolutamente manteneva un certo distacco preferiva sì 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 preferiva però l'individuo vale anche per l'allenatore no l'essere individuo creare l'individuo vale anche per l'allenatore poi e quindi ognuno può in base al suo vissuto l'ambiente eccetera crea quello che è l'individuo finale diciamo un allenatore bravissimo infatti l'allenatore deve valutare gli altri ma prima di tutto deve conoscere se stesso in base a dove sono cresciuto i miei comportamenti le mie capacità le mie convinzioni sono diverse da un altro giocatore perché è diverso da me non posso arrabbiarmi spesso e volentieri con quel giocatore perché non lo vedo uguale a me no è diverso da me devo aumentargli le sue capacità le sue doti per quello che lui è devo utilizzarlo a me la diversità è a mio vantaggio e non a mio svantaggio probabilmente è certo infatti molte volte vai magari in in conflitto con i giocatori di forte ego perché vai molto in competizione con i giocatori di maggiore ego ma non devi andare in competizione devi solo valorizzare il suo ego in che modo in base al carattere che ha non devi andare in competizione se no poi invece la squadra ce l'hai tu ce l'hai tu allenatore è stato un intervento veramente veramente prezioso io sono molto contento di quello che ho sentito e ne faccio tesoro io prima come allenatore sono sicuro che anche tutti quelli che ci hanno ascoltato da casa sarà la stessa cosa per me personalmente sempre un piacere quindi ti ringrazio sicuramente per la disponibilità e per averci provato il tuo lavoro di cui io ti faccio personalmente i complimenti grazie io personalmente ti faccio lascio la chiusura poi al buon Sabo che voi vi conoscete anche personalmente lascio la chiusura a lui oggi ti faccio in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera sono sicuro che questo sarà un elemento in più per poi crescere tu come allenatore quindi noi di Tattikers sicuramente ti seguiremo quindi io personalmente ti ringrazio ti saluto Sabo lasciate i ringraziamenti finali e poi chiudiamo io intanto ti ringrazio perché ci hai dedicato un sacco di tempo e dato un sacco di spunti e poi approfitto dell'occasione per ringraziarti anche non solo per questo intervento ma per le parole che ci diciamo quando ci sentiamo fuori da campo perché è sempre un confronto che a me fa piacere e fa crescere tanto e di questo ti ringrazio personalmente grazie a voi prima di tutto per l'invito perché comunque se siamo qua è perché ci spende una grande passione per questo gioco stupendo e grazie per le belle parole che avete speso in questo momento e non posso che ricambiare perché veramente siete vi ho già conosciuto Sabo ovviamente l'ho conosciuto anche di persona siete due persone speciali simpatiche e determinate per cui è un piacere passare sempre le serate con voi è questo il campo mister speriamo di riuscire a conoscerci domani disturbiamo Davide è ancora là che si connette si riprende la connessione si lo disturbiamo va bene ragazzi grazie mille grazie mister ciao grazie a voi ciao ciao buona serata a tutti buonanotte alla prossima grazie a tutti